Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Clash of Clans di nuovo per fare un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di upgrade perché abbiamo quasi finito il municipio a livello... è questo qua insomma, a livello 11, finalmente dopo secoli e secoli, municipio a livello 11, cioè dopo 14 giorni che oggettivamente sono tanti non vedo l'ora, sono eccitatissimo all'idea e penso lo completerò adesso con 36 gemme, cosa che non mi costa particolarmente tanto sto provando qualche nuova tecnica di attacco che attualmente non sono riuscito a trovare, le sto provando vari con i giganti perché mi serve un farming interessante, siamo a 50.000 di nero, non vedo l'ora di portare la bellissima regina a livello 2 la strega, scusate, a livello 2 e poi a livello 3, ora però ci andiamo a fare subito questi upgrade, siete pronti? completa ora, bam, municipio a livello 11, andiamo così, va bene così, meraviglioso che spettacolo, fantastico, oddio che bello, meraviglioso iniziamo a spostare un po' di roba, tipo questo io lo vorrei mettere da un'altra parte spacchiamo qui, bello e questo lo mettiamo di qua, questo facciamo zona upgrade zona upgrade, questi li apriamo un attimo uno, due, questa la mettiamo qua in mezzo e lì ci mettiamo tutti i belli upgrade poi ho già trovato una disposizione nuova per il villaggio che però faremo successivamente qua adesso ci andiamo a spettere tutte le nostre nuove cose esercito, la prima cosa è il nuovo mago costa 6.000 di elisir bam, eccolo qua il prossimo upgrade è 250.000, ok, lo dobbiamo provare subito, lo proveremo subito poi lo metteremo dentro adesso soltanto per fare un po' di upgrade andiamolo a vedere da vicino purtroppo non possiamo sfruttare l'abilità perché si sblocca a livello 5 lavorerò affinché noi arriviamo presto a livello 5 e infatti probabilmente adesso fino a livello 5 l'elisir sarà tutto convogliato qua poi dopo andremo a fare i vari upgrade appena finito tutto, torneremo a modificare, a incrementare il gran sorveglianza quindi il mago adesso andiamo a fare le difese, abbiamo un cannone quel lì nel cannone livello 1 è mostruoso è qualcosa di allucinante poi difese ancora, cannone livello 2 tac abbiamo un sacco di cose lì per il cannone livello 2 poi possiamo, eccola qua, l'artiglieria aquila ci mette 10 giorni, 8 milioni 8 milioni, aspetteremo un po' adesso mettiamo qua subito la torre dello stregone adesso continueremo a fare questi upgrade veloci in tempo record, 15 minuti adesso ci metterà un po' questo 12-11 e questi sì, saranno le prime cose da portare su appena ci si libera il quarto no, adesso portiamo su un po' di roba poi mettiamo subito a fare l'arco X perché l'arco X ha bestia ha migliorato i cosi le miniere perché costava una gemma a ciascuno quindi non male adesso appena finiscono le truppe ne abbiamo 44 ancora un po' che ne mancano andiamo subito a provare il magone che cazzo, dobbiamo provarci il mago a bestia quindi sì, non ci resta che aspettare andiamo a vedere uno sguardo rapido a tutti i vari upgrade che possiamo fare nel senso ok, questo adesso 8 milioni e mezzo portare 9 le torre dello stregone va bene ok, anche questa è stata completata la portiamo al livello 2 30 minuti ma sapete che vi dico perché ho un sacco di risorse mi dà fastidio e metterei a fare subito l'arco X eccolo qua il nostro bellissimo arco X a posto andiamo ad aggiornare la mia cosa che qui ho una disposizione per valutare tutte le varie le nuove diciamo sì, vabbè, questa è modifica disposizione meravigliosa con il free scritto free ho messo un casino di tempo a farlo comunque, in tutti i casi andiamo a mettere questi reali dove ce li ho dove stanno i reali qua? aiutatemi, non li trovo ah, ecco li qui i reali e li mettiamo tutti e tre vicini poi ci mettiamo qui un bel arco X a completare una torre dello stregone che qua non c'entra soprattutto beh, questo il cannone lo mettiamo qua questo lo mettiamo qui meraviglioso dovremmo faticare un po' penso per portarli tutti su in massima questi li spostiamo di qua perché sono un sacco un sacco di trappole due questo l'ho fatto più che altro per vedermi bene i vari upgrade che devo fare e eccolo no, non c'entra ti rendi conto che non c'entra? porca miseria, non c'entra shh, non c'entra adesso spostiamo questi più giù guardate mettiamo così questo lo faccio più che altro per vedere no, ve l'ho detto quante upgrade e quali devo fare ecco bam messo a bestia questi li mettiamo così poi modificherò magari successivamente ne ho soltanto uno al 3 è scandalosa questa cosa è soltanto una bomba gigante al 3 è scandaloso da modificare da migliorare va bene questo è quanto adesso migliorata anche l'inventario qua finisci più tardi adesso aspetto che si finiscono le truppe poi ci rivediamo per un nuovo attacco truppe completate e adesso iniziamo a giocare non ho probabilmente pensato a completare questi però 65 spendere 65 gem adesso mi pesa tantissimo in maniera proprio allucinante quindi 35 giusto per fare la sua figura abbiamo finito completamente le gem stavo pensando di farci una gemmata magari tra più in là più in là gemmiamo a bestia qualcosa sì 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 è da fare è da fare è da fare prima prima portiamo su questi questo al 5 e poi ci gemmiamo qualcosa andiamo a cercare un attacco un attacco che può significare parecchio perché dobbiamo trovare la strategia adatta vedete ecco oddio abbiamo un nuovo mago è bellissimo è meraviglioso abbiamo anche 4 archi x abbiamo un sacco di roba in più adesso devo trovare nel prossimo episodio ci facciamo una bellissima nuova disposizione per il town hall livello 11 anche se attualmente non è finito però dobbiamo provvedere a crearne una questo mi era pesantemente quindi no dobbiamo creare appunto una difesa interessante o per sì l'ho ridetto due volte ma fotte sega per il town hall livello 11 e questa difesa è interessante non so quanto bene ci vorrà ho cercato ho trovato qualcosa in rete perché poi metterla a fare io non sono totalmente negato a farmi le difese comunque sì qualcosa ho trovato già ho varie idee sul quale portare una da farming mi serve soprattutto adesso farmare non so se è conveniente come dicevo l'altra volta passarmi di coppia sono sceso per ora a cristallo 3 e non ha portato tanti frutti anche perché non sto trovando più tante risorse come ne trovavo prima un po' mi da fastidio però appena riesco a trovare la strategia di farming a bestia è tutto pronto questa è la disposizione di villaggio simile al mio ok questo ci dobbiamo per forza riuscire cazzo questo lo hariamo dai è arabi è arabi è oggettivamente arabile via su via ragazzi se non riusciamo a arare questo vuol dire che smettiamo di giocare a clash perché questi due li prendi alla grande dovresti puntare e prenderlo magari quest'altro anche se anche se poi io non è che abbia tutti questi spaccamuro noi due un asalto e via però mi rompe il cazzo va bene proviamo alle truppe del clan che palle non ho neanche la veleno pronta ok le attiriamo fuori non ci ho pensato nel farlo ecco dobbiamo adesso perdere tempo così mi pare possibile è per forza così ogni tanto no dobbiamo portare fuori le truppe adesso portate fuori le truppe venite qua venite qua venite qua ancora 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 massacrali 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 a bestia forza vabbè siamo più forti noi non c'è paragone che c'entra abbiamo più truppe e sono di livello superiore quindi ciao adesso possiamo concentrarci adesso di nuovo ah devi mandare i giganti insieme si mandavano com'era la storia e questi così a schiera sì penso di sì penso si mandassero così non almeno una cosa del genere i giganti vanno insieme cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare adesso a bestia no non mi dobbiamo andare lì fanculo vabbè tutta sega spaccalo 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 no spaccalo bello bello ok ce l'ha quasi fatta ce l'ha quasi fatta ora altri giganti così i massimi che mi devono andare lì bravi giusto giusto così buono così ora ci mandiamo dietro uno due questi li mandiamo qua e mandiamoci dietro anche questo vediamo un po' che fa qual è la sua utilità in questo riusciamo a prenderlo quello? sì che riusciamo vero? riusciamo a prenderlo? sì ci riusciamo ci riusciamo ok quello l'abbiamo preso il re barbara ci sta morendo male? no no non ancora non ancora tra poco attiveremo il power bene abbiamo preso già due depositi il che è molto buono due depositi adesso attiviamo ma non ancora regge il re regina veloce perfetto ha spaccato la cosa il re mi sta facendo il cazzo di giro ancora va bene ancora è fattibile lo possiamo ancora tenere vai adesso power del re peccato non posso usare il power di quest'altro cosa perché cazzo se mi casava adesso io direi di attaccare di qua perché abbiamo posto la possibilità di prenderci sto è questo questo cosa qui insomma abbiamo questo che attacca da lontano peccato l'inferno che sono un casino boia spaccato dai fammi questo numero fammi questo numero ti butto giù anche della furia ti metto giù anche no vabbè senza furia pure ce la fanno secondo me no senza furia non ce la fa però è buono perché alla fine abbiamo preso parecchio ma tu perché attacchi cioè scusate chi attaccava lui no non ho capito bene chi si era messo ad attaccare se la torre dell'arciere qualcosa vabbè non ne vale la pena ovviamente usare quello comunque abbiamo preso abbastanza 107.000 più 140.000 bottini che 140.000 ti lasciano un po' quell'amaro in bocca perché io ero abituato a fare bottini superiori la mia idea è adesso dobbiamo tornare alla la vecchia go wipe e io la faccio una go wipe volentieri cioè io vi butto giù una go wipe il punto è che ci devo sprecare troppo elisir nero cioè non me ne vale tutte le elisir nero che ci devo andare a sprecare perché io usavo tre golem con tre golem è una go wipe è un disastro con tre golem è un disastro perché poi quanto abbiamo voglio fare il ripilogo delle due furie un salto metto un'altra furie un'altra salto e un'altra gelo e va bene e così siamo a posto poi qui questo è niente fotte sega e dobbiamo farci è un casino qui cioè con la go wipe non vai tanto lontano non hai possibilità di andare lontano perché ti devi spendere allora tre cose sono 750 per 3 che fa 2250 2250 di nero io non ho possibilità di riprenderlo quindi andrei sicuramente a perderci no? è dispendiosa come cosa è molto dispendiosa io non ho grandi idee in merito proprio utilizzarlo io vorrei utilizzare le truppe queste normali anche se mi vado a usare un pecca con un pecca io ci spendo 40 mila secondo me sono 90 mila già cioè a mettere altri 20 maghi e ti vengono fuori altri 80 mila cioè 170 mila è un esercito che costa tanto bene è pauroso perché è micidiale ma costa veramente tanto quindi bisogna trovare un po' un bilanciamento mi fate questo piacere di scrivermi qua sotto nei commenti quale tecnica si usa per il farming con il tono alle livello 11 perché attualmente non ne ho trovata una con i giganti non sono mai stato capace non penso sia una grande trovata potrei provare concentrarmi sui draghi l'idea sarebbe concentrarci sui draghi quindi usare draghi livello 4 attualmente non ho nessuna minima intenzione di portarli su a livello 5 perché adesso devo concentrarmi ok ho messo a fare i minion e poi mi concentrerò sulle varie streghe una volta concentrato sulle streghe cosa vabbè sì ok streghe poi abbiamo completato il nostro assetto streghe golem e maghi ci dobbiamo portare su soltanto la congelamento ma la gelo la porteremo su successivamente perché le riserve l'ho detto ci serve tutto per il gran sorvegliante che adesso con 250 mila ce lo portiamo con 2 milioni e mezzo ce lo portiamo su 2 milioni e mezzo li fa in poco tempo e poi per portarlo su quanto tempo ci riega 3 no 32 minuti il tempo quanto mi vuoi? no io volevo sapere quanto per migliorarlo il tempo 12 ore così 12 ore flambe nel settembre la mattina la sera già ce lo ria comunque vabbè queste sono qualche questa qualche considerazione almeno come la penso io in merito al municipio lì all'11 fatemi una figata assurda meraviglioso meraviglioso non vedo allora nel prossimo episodio vi farci la base review cioè nel senso di farci una base nuova comunque per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione vi ricordo lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se vi è già fatto di condividere il video su facebook e farmi un channel per se e noi siamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi